Spirito di Dio Spirito di Dio, consacrami, vieni ad abitare dentro me. Spirito di Dio, guariscimi, Spirito di Dio, guariscimi, Spirito di Dio, guariscimi. Vedere i posti dove sono stati uccisi questi ragazzi, è stato molto emozionante entrare nella messa nell'aula che era ancora, come quando sono stati uccisi i ragazzi e il cortile. Vedere proprio i luoghi dove sono stati uccisi è stato veramente emozionante. Spirito di Dio, consacrami, vieni ad abitare dentro me. Benvenuti in Galera Malindi. Spirito di Dio, riempici. Spirito di Dio, riempici. Spirito di Dio, riempici. Spirito di Dio, riempici. Spirito di Dio, riempici.